Una ricca platea composta da allenatori, ex arbitri, società sportive e tifosi appassionati ha salutato ad Acicatena, nei locali dell'ex Cinema Savoia, il congresso, il doping e lo sport, organizzato dall'ente municipale e guidato dal sindaco Scienzio Maesano, assessorato allo sport, retto da Massimo Pellegrino. Ospite della manifestazione sportiva, l'arbitro benemerito Tullio Lanese, il presidente del comitato regionale siciliano LND Sandro Morgana, il consigliere regionale FIGICI Pippo Rossi, il presidente del comitato cadanese del CONI Pippo Crisafulli, unitamente da altre personalità nazionali del mondo calcistico. L'occasione, fortemente promossa dal primo cittadino catenoto, è servita per premiare Filippo Laspina, di recente promosso a membro della Commissione Nazionale Antidoping della Lega di Serie A e B di Calcio. Il sindaco, nel suo intervento introduttivo al convegno, ha tracciato alcune sfumature che contraddistinguono il catenoto doc Laspina, personaggio serio, scrupoloso e soprattutto umile nello svolgere qualsiasi incarico affidato gli queste le parole di Maesano. Lanese ha delineato il cambiamento del mondo del pallone. Morgana, nel suo intervento, ha sottolineato come cercherà, da presidente della LND siciliana e da sportivo, di aiutare i colori bianco-rossi e la cicatena a risollevarsi alla terza categoria dopo il tonfo dalla D. Al termine della piacevole serata, l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maesano, ha consegnato un mazzo di fiori alla mamma di Laspina. Al neomembro della commissione antidopic Filippo, una targa in ricordo invece con dedica, mentre agli altri intervenuti, i membri della Giunta e alcuni consiglieri capitanati al presidente Salvo Finocchiaro, hanno consegnato artistici piatti in ceramica di Caltagirone con lo stemma del comune di Acicatena.